Buongiorno, non fate caso al mio aspetto e alla mia voce come al solito, ma mi sono appena svegliata perché stanotte, ieri sono tornata tardi dal lavoro, erano delle due, dovevo uscire a luna ma invece ho fatto più tardi perché c'era stata tantissima gente e chiaramente dovevo pulire tutto, poi mi ho aumentato il lavoro. E quindi ho fatto le due, ma adesso sono stanchissime, ho ancora sonno, comunque, al frattempo a me non sono bellicino, sto andando dai miei genitori perché siamo a pranzo lì da loro oggi e poi anche oggi 8-1, sperando che non ci sia poi un ulteriore lavoro aggiuntivo, quindi incrociamo le dita e speriamo bene. Comunque, vi sono dimenticata di farvi vedere, cioè, volevo accenderlo prima, mentre ero in casa il vlog, però siccome sono un po' di corsa, l'ho acceso in macchina, però vi volevo far vedere il golf che mi ha comprato ieri mia mamma, Comunque, ve lo farò vedere poi stasera quando torno, anche se è tardi, tanto poi questo vlog lo uscirà domani. Cioè, per voi oggi è il 24, uscirà il 25. Quindi, vabbè, adesso non mi ci strobicciarmi gli occhi, andiamo, perché sono c'è di tale. Anche se noi si mangia abbastanza tardi, eh, non è che si mangia prestissimo, però sono già quasi mezzogiorno, non vorrei che poi mi chiamassero per dire, perché cavolo sei? Ahiaaa, insomma, andiamo. Ok, sono appena arrivata dai miei, mi sono già messa la felpa col cappuccio perché non piove, sto soltanto diluviando. Sentite? Comunque, qui oggi, comunque vi volevo dire, buona domenica! Adesso andiamo su, non so nemmeno se è arrivata già mia mamma, comunque. Ok, sono uscita dal lavoro, sono praticamente già arrivata a casa, sono appunto nel parcheggio macchina. Infatti vi saluto da qui perché almeno, già la, si la cussa. La, la, la luce della macchina, perché tanto comunque, come avevo già detto anche nell'altro vlog, la luce di fuori non sono delle migliori. Quindi, vi saluto direttamente da qui. E vi mando un bacio come al solito, vi auguro una buonanotte. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!